L'ultima cosa che mi siete detto? Niente, dormiva. Sono uscito in punta di piedi. Sembrava che dormisse. Non sembrava, dormiva. No, era morta. Mettiamoci bene in testa che la signora De Matteis... Non mi prende per cinico, ma a un certo momento devo pure difendere. Sei un falso, ecco. Un falso. Alfredo, io credo nella tua innocenza. Questo orologio lo regalo lei alla signora De Matteis, vero? Io posso fare l'amore con una donna... ...senza per questo sentirmi impegnato. Senza impegnarla moralmente, diciamo così. Io voglio un pigiama. Ciao. 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 Ciao.